Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93 Prima di iniziare l'analisi del DLC Devastation di Call of Duty Ghost Vorrei approfittarne per darvi una buona notizia per chi non è in possesso di Call of Duty Ghost In questo weekend a venerdì 7 marzo fino al 10 marzo sarà possibile giocare la modalità multiplayer Quindi avete la possibilità di provare 3 mappe che sono Strike Zone, Warhawk e Prison Break Con 3 modalità che sono Deathmatch, Dominio e Cerche Distruggi Quindi ragazzi avete la possibilità di giocare il multiplayer di Call of Duty E poi avrete la possibilità anche di provare la nuova, anzi la nuova no, la modalità estinzione di Call of Duty sempre Ghost Il Point of Contact cioè la prima delle prime Quindi ragazzi affrettatevi a registrarvi perché così potete scaricare la demo e provarla con tutto Cioè potete provarla per assaporare un pochettino Call of Duty Ghost Per assaporare quel gioco di merda che ci ritroviamo tra le mani già noi Prima di parlare del pacchetto Devastation, delle sue mappe e della modalità estinzione Vorrei parlare prima dell'arma che offre sempre questo pacchetto Che sarebbe il The Reaper Allora chi è in possesso del Season Pass come me la potrà provare già in anteprima E vi posso dire che è un'arma veramente eccezionale Solo un fatto, cioè c'è solo un piccolo problema ragazzi Che l'arma non è molto forte Anzi non è proprio per niente forte Neanche a paragone con le M-TAR Io ad esempio uso molto le M-TAR E devo essere sincero la mitraglietta, la versione mitraglietta del The Reaper Non è all'altezza delle M-TAR Quindi ragazzi è un'arma sì, ibrida, molto utile Magari per diventare fucile d'assalto quando dovete sparare dalla distanza E mitraglietta per sparare da un raggio medio molto vicino Però ragazzi secondo me restano molto più potenti Le classiche armi come l'Honey Badger, le M-TAR, il Vector o il Remington La prima mappa che andremo a vedere è Rains Ruins o come cazzo si chiama E questa è posta su una penisola messicana tra le rovine di un Tempio Maya Posto sulla sommità di una montagna con molteplici livelli Da quello che ho capito questa mappa quindi offre oltre a verticalità per armi a lungo raggio Anche percorsi sotterrani perfetti per scontri ravvicinati Ovviamente quindi ragazzi io sarò una talpe e girerò perfettamente nei sotterrani Per uccidere gli avversari in maniera molto diciamo attaccata, ravvicinata I giocatori quindi troveranno e completeranno se ce la faranno ovviamente La direttiva di missione e con questo potranno innescare l'eruzione del vulcano che è presente nella mappa Per ostacolare i giocatori nemici Quindi ragazzi anche questo mi sembra un'ottima cosa Questo in questa eruzione del vulcano mi piace tantissimo La mappa Collision è un ammasso di rottami sparsi su una nave container schiantata sotto un ponte danneggiato a New York Molto bella come ambientazione Questa piccola mappa è ideale per uno stile di gioco run and gun Quindi molto veloce I giocatori che domineranno Collision e completeranno ovviamente la direttiva di missione Potranno comandare un mezzo aereo dotato di grandi armamenti E quindi distruggere tutto ragazzi La distruzione ovviamente avviene dall'alto Anche questa mappa mi piacita molto Solo che ragazzi per me sono sempre importanti le piccole e medie dimensioni delle mappe Quindi aspettiamoci, possiamo aspettarci di tutto Non sappiamo mai come sarà Ad esempio Containment doveva essere una mappa molto piccola Nel pacchetto Onsloat invece era molto grande Invece è molto grande Quindi ragazzi passiamo alla prossima mappa Che è Beamute Porta la battaglia a bordo di un'enorme piattaforma di escavazione in Sud America Lungolinee di vista rendono questa mappa adatta ad armi a lungo raggio Quindi sempre per sniper Mentre gli ambienti interni delle stanze di controllo Sono ideali per le mitragliette e i fucili a canno e mozze Quindi uno scontro anche qui ravvicinato Ci sono due specie, due mappe incluse Cioè anzi non due mappe, due mappe in una Sì due mappe in una Una per lo scontro ravvicinato E l'altro per ovviamente per i cecchini Quindi se completiamo la direttiva di missione di Beamute Questa ci permetterà di controllare un elicottero d'attacco Armato di un cannone a rotaia Perforante Mentre sorvolano l'escavatore e la ricerca dei nemici Quindi sarà una bestia ragazzi Altro che ha in d'assalto Questo elicottero dovrà spaccare il culo E spero proprio che sia così La quarta mappa di Devastation è ovviamente Unearthed Immerge i giocatori in una versione reimmaginata di DOM Quindi la mappa multiplayer di Call of Duty Mv3 Armata dai fan Con un nuovo look e nuovi segreti ragazzi Unearthed è una mappa compatta Adatta a tutti i giocatori Che dovranno esplorare un stato di scavo di un reperto alieno Per sbloccare la direttiva di missione della mappa E quindi scatenare i cryptidi Ragazzi ovviamente i cryptidi sono gli alieni E quindi sarà possibile in questa mappa In questa mappa Questa reimmaginazione di DOM Individuare anche l'arma aliena segreta Che è una cosa veramente figa ragazzi Mi sarebbe sempre piaciuto provare la Raygun Contro ovviamente la gente online Passiamo al punto forte del pacchetto Che è il secondo episodio dell'estinzione Mayday Che segue ovviamente i drammatici eventi Che sono avvenuti su Nightfall E ovviamente la squadra Quella che viene denominata Quick Reaction For si reca ora a bordo di un misterioso vascello Di ricerca cinese Che si trova abbandonato nel mare di Tasmania Nell'oceano Pacifico I giocatori quindi scopriranno una cospirazione ancora più profonda Mentre inseguono il capitano Archer E scoprono che cosa è successo alla dottoressa Cross Quindi armati di molteplici versioni moddabili dell'arma Venom X Che sarebbe quell'arma che avete conosciuto Nell'episodio Nightfall Questa volta più moddata diversamente E sarà molto figa quindi I giocatori incontreranno un'altra nuova specie aliena Conosciuta come Kraken Che è un'altra specie di boss ragazzi E quindi si scontreranno testa a testa Con questo nemico gigantesco Che ovviamente proviene dalla profondità dell'oceano Quindi ragazzi l'analisi è finita Spero che vi sia piaciuta Penso che questo pacchetto non sarà niente di speciale Come al solito Come è stato un sdote Sinceramente mi è piaciuta molto Fog Ma oltre a quella non c'era niente di speciale Non mi piace molto la moneta estinzione Non ho finito neanche Nightfall Però cercherò di finire la prima possibile Per poi cimentarmi su Mayday Ovviamente ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito vi invito a iscrivervi Commentare Mettere mi piace Che sembra veramente poco Ma per me è veramente importantissimo Ogni vostro mi piace Perché mi fa capire Che il mio lavoro vi sta piacendo E quindi ragazzi Ci vediamo alla prossima Quindi Bella raga